Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori di TVL per il nostro notiziario sportivo. Partiamo subito dal calcio perché domenica la Serie D tornerà in campo, lo farà con la Pistoiese, protagonista contro il Mezzolara in trasferta a Imola allo stadio Romeo Galli. L'imperativo per gli arancioni adesso è quello di vincere perché mancano i tre punti in questo 2024 e sono fondamentali in ottica salvezza. Il servizio è di Giada Benesperi. In Serie D si torna a giocare. Domenica per la Pistoiese c'è un impegno importante, cruciale e forse fondamentale anche per il futuro in chiave salvezza, la trasferta contro il Mezzolara. Sicuramente partita fondamentale per cercare di raggiungere il nostro obiettivo che sappiamo che è la salvezza ed è uno sconto diretto in cui non abbiamo alternativa se non quella di fare punti. Questa sosta è servita? Sì, molto. È servita da un punto di vista atletico per alzare un po' il livello dei ragazzi che come sappiamo era un po' basso ed è servita a fare gruppo, a fare delle scelte importanti all'interno del gruppo e quindi abbiamo un pochino scremato il numero dei giocatori. In quanto a formazione che scenderà da primo minuto in campo ci sono ancora dei dubbi, ancora qualcosa da valutare? Sì, dobbiamo valutare Pertici che ha subito una distorsione martedì, oggi è rientrato un gruppo che è un pochino da valutare e qualche pedina in fase difensiva a livello della difesa, però in grandi linee è fatta. Che pistoiese ci vorrà per affrontare questo mezzolara, per battere questo mezzolara, penultima in classifica della Girone di affamata di punti ovviamente? Ci vuole secondo me la solita pistoiese che abbiamo visto a San Marino, che abbiamo visto a Carpi, che abbiamo visto con la San Maurese, soprattutto nell'approccio. ovviamente dobbiamo limitare i nostri errori o blackout a livello difensivo, perché non abbiamo altro che la possibilità di fare punti, dobbiamo farli per forza. Domenica ha vietato sbagliare, perché servono veramente i tre punti? Sì, senza dubbio servono i tre punti, come servirebbe anche un solo punto a questo punto della situazione nostra. Ci serve muovere la classifica per il morale dei ragazzi, ci dobbiamo riuscire. Come hanno lavorato in questi giorni, anche con delle vicissitudini a livello societario che si sono smosse? Abbiamo lavorato bene e siamo stati bravi a estranearci da tutto il contesto che purtroppo c'è e c'era anche prima che arrivassero tutti i ragazzi. Sicuramente un pochino destabilizzano tutte queste notizie, perché coinvolgono tutti. Per noi siamo qui per far campo e per cercare di salvarci sul campo. Le questioni societari purtroppo non dipendono da noi, anche se siamo coinvolti. Pistoiese e Mezzolara, anzi Mezzolara Pistoiese, che sarà in diretta proprio su TVL, canale 14, domenica alle 14.30. Adesso però dal calcio ci spostiamo al basket, perché sì, si sono concluse le finalette per Estra Pistoia, però TVL era presente, ha incontrato tanti personaggi importanti del mondo della palla a spicchi. Andiamo a sentire insieme le loro parole proprio riguardo ai biancorossi. Pistoia decisamente è la sorpresa dell'anno. Ambira uno scudetto, dicevo ieri in un'intervista, è difficile per Pistoia, così come per Napoli, però questa è un'opportunità, un'occasione, essendo partite secche, di poter, come dicevo prima, vincere un trofeo importante. Non sorpreso, perché comunque è stata programmata con serietà la strutturazione della squadra per questo nuovo approccio, la società ha mostrato di essere pronta per questo salto di categoria, il mio Nicola non ha bisogno di mie parole per dimostrare nella sua carriera la sua grande qualità. Faccio un po' il tiffo per Pistoia, nel senso che rivedo quella finale, rivedo il grande equilibrio di quella finale e chiaramente vedere quanto bene sta facendo Pistoia rende un po' meno amara la nostra sconfitta dell'anno scorso ed è andata una squadra che ha dimostrato di meritarlo anche a posteriori su campi più importanti come quelli della Uno. Ci saranno anche le Final Four, Fabo presente, quindi la provincia di Pistoia in questo momento sta andando molto bene, Fabo che può lottarsela sia lì sia per il campionato? Beh, la Fabo è una grande squadra, il campionato di Serie B è bellissimo, ci sono tante squadre importanti, io sarò a vedere la semifinale Fabo contro Roseto che ho giocato anche Roseto, quindi il campionato di DLV è bellissimo, quindi tutti a Roma puoi vedere quest'altra Final 8 perché c'è anche la Lega 2 di Palacanestro. In attesa di un bel derby in A1? Ah beh, in attesa, ritornare i vecchi derby, pistoiesi, montecatinesi sanno cosa vuol dire i vecchi derby, chissà che in un futuro prossimo non possa esserci un altro. I palazzetti stanno tornando davvero pieni, un basket italiano che sta crescendo? Sta crescendo, sta crescendo anche da un punto di vista di visibilità, di contenuti, speriamo che possa crescere poi anche da un punto di vista di strutture. Pistoia, il vostro è bellissimo, è molto caldo, però ce ne sono altri. Guardando anche quello di stasera viene un po' rimpianto a pensare che non c'è una squadra di Serie A che possa utilizzarlo per le sue partite di campionato, magari aspettando Torino, però piacerebbe vedere degli impianti, magari non così grandi, ma efficienti anche in altre parti d'Italia dove c'è la passione della palacanestra. Adesso invece ci spostiamo proprio a Montecatini che ci ha anticipato nel servizio precedente la leggenda Mario Boni. Montecatini che torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie B nazionale, anzi per il fine settimana dopo il turno infrasettimanale con la Fabo Irons impegnata nell'anticipo di sabato alle 21 contro Megna in trasferta. Gli aeroni sono in cerca di riscatto dopo la bruciante sconfitta a Casalinga contro Piombino che è valso il sorpasso definitivo della Piela al primo posto in classifica. Gemma Montecatini invece riceverà domenica alle ore 18 al Palaterme la Juve Caserta. Anche il rosso-blu hanno alle spalle una sconfitta a quella del Palamacchia contro la Libertas Livorno. Il team Coratec Vini Fantini è pronto per la prima gara UCI World Tour dell'anno, la UEI Tour negli Emirati Arabi che si svolgerà dal 19 al 25 febbraio. Un cronometro, due arrivi in salite e quattro chance per le ruote veloci. Attendono il tram diretto da Serge Parzani e Marco Zamparella che verrà capitanato per quanto riguarda gli arrivi di gruppo da Jakub Marcezco. In squadra Attilio Viviani e Samuele Zambelli mentre Andri Ponomare, Alessandro Monaco e Marco Murgano proveranno a dire la loro per dei buoni piazzamenti nelle frazioni più complicate. A chiudere la sezione il britannico Mark Stewart, doppio impegno anche in Francia, dove il team diretto da Francesco Frassi affronterà la Classic Vare seguita dalle due giorni del Tour des Alpines Maritimes. Niccolò Bonifazio e Cristian Sbaragli saranno i corridori più rappresentativi al Vieno. Una selezione che li vede al fianco dei più giovani Matteo Amella, Antoine De Bonza, Alessandro Iacchi, Simone Olivero e Etienne Van Empel. Importante successo invece per gli alceri del Micco e campionati italiani indoor in corso a Pordenone. Leonardo Bardassi, Pietro Tosi e Davide Marotta hanno infatti conquistato il titolo nazionale a squadre maschile e specialità campound categoria allievi. I tiratori del Micco di Pistoia hanno vinto con 1631 punti staccando di 14 secondi in classifica. La nostra società mancava da 13 anni a campionati italiani. Quest'anno contiamo quattro presenze oltre agli appena eletti campioni d'Italia. Domani sarà la volta di Gaia Morgana Pezzente, divisione Arco Olimpico. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro e il sostegno di tutta la nostra società che da un anno ha trovato un nuovo slancio e passione e che oggi vede riapparire Pistoia fra i riferimenti di questo sport, ha commentato il presidente della società pistoiese Stefano Orlandi. Con questa notizia che riguarda il tiro con l'arco è tutto. Per quanto riguarda la pagina sportiva noi vi lasciamo alle ultimissime di cronaca e vi auguriamo una buona serata. Grazie a tutti.